Per la prima volta al Principato di Monaco vediamo girare le Formula 3 E la prima volta è uno spettacuto Gabriele Mini ci regala una pole position straordinaria Un giro stupendo che rifila ben 6 decimi al secondo classificato Ossia il pilota della Prema e della Ferrari Driver Academy Dino Beganovic Il pilota siciliano è uno dei più grandi prospetti del motorsport in Italia E ci farà vedere tante cose belle Segnatevi questo nome ragazzi Per il mondo dei motori a 360 gradi ricordate di seguirci